Ciao, nel video di oggi voglio parlarti di come rimuovere i blocchi che hai nella tua attività. Io, se non mi conosci, sono Lorenzo Cicetti di LorenzoCicetti.com. Dal 2006 aiuto le persone a costruirsi un guadagno automatico e ricorrente tramite il network marketing, internet, ad essere social media. E in questo video appunto ti parlavo di come rimuovere i blocchi, nel senso che tutti noi siamo sempre un po' fermi a una certa qualifica o almeno magari fermi a determinati livelli nella nostra vita. E vedo spesso persone nel mio team, in quello di altri team, a parlarmi di blocchi. Io sono bloccato, io sono fermo, sono fermo qua, sono bloccato, non riesco a fare clienti, sono bloccato, non riesco a sponsorizzare, non riesco a duplicare. Insomma, ormai viene diffuso questo termine blocco. E proprio oggi guardavo un video di Eric Warren in cui parlava di questo, come rimuovere i blocchi. E lui diceva che è più facile, è più facile agire per cambiare il nostro modo di pensare che pensare per cambiare il nostro modo di agire. Le persone che hanno i blocchi, secondo la mia esperienza, sono persone che sono troppo riflessive, pensano troppo, la loro testa frulla in continuazione, ok? Lo so che mi stai guardando, sei anche tu. Pensare, riesco questo, qua riesco, qua non riesco, eccetera. Invece il modo è, fai per imparare, per cambiare il tuo modo di pensare. Puoi guardare i video dalla mattina alla sera, puoi leggere i libri, tutti i libri che ti pare, ma l'unico modo che ti farà cambiare anche il tuo modo di pensare è agire. Quindi, come compito per oggi, qual è il compito che ti do? È fai quella cosa che tu sai che devi fare, ma che pensi di essere bloccata a fare. Falla, non pensare, agisci, ok? Agisci, vedrai che agire ti porterà a un altro livello di pensiero, penserai in un altro modo, sarai più sicuro, sarai più determinato, quando i tuoi dubbi inizieranno a dileguarsi, faranno spazio a una diversa consapevolezza. Quindi, ancora una volta, il tuo compito per oggi è questo. Fai quella cosa che pensi di dover fare, magari fai quella pubblicità, contatta quelle persone, fai quell'azione che ti permette di andare in quella direzione dove vuoi andare. Poi, se le cose vanno, se la cosa va bene, bene, ok? Se non va bene, avrai comunque imparato qualcosa che ti servirà al prossimo tentativo, che ovviamente farai oggi, se ce la fai, o domani, perché la costanza premia sempre. Quindi, a questo punto, mi auguro che questo video ti abbia dato valore, ti abbia spromanato a pensare un po' di meno e agire un po' di più, perché questo cambierà il tuo modo di pensare, cambierà il tuo modo di essere, e quindi crescerai, la famosa parola crescita, diventerai una persona più grande dei tuoi problemi. E mi auguro che ti abbia dato valore, quindi tagga le persone del tuo team sotto questo video, condividilo, mostralo a ogni persona che ritieni abbia bisogno di passare al livello successivo, abbia bisogno di superare i propri blocchi. Ci vediamo al prossimo video, ciao e buona serata!